Il trattamento del linfoma grande di cellule bidiffuso è in una fase di evoluzione. Le terapie attuali già sono in cambiamento, ma molto si aspetta dal futuro. Ne abbiamo parlato in occasione dell'Informance Conference tenutasi a Roma con il professor Umberto Vitolo. Professor Vitolo, qual è lo standard attuale della terapia di prima linea nel linfoma diffuso a grammi cellule B? Lo standard attuale è sicuramente ancora la chemoimmunoterapia basata con l'anticorpo monoclonale anticidimenti rituximab associata al CHOP. Recentemente, sulla base di uno studio, di un ampio studio internazionale, che ha ruolato più di 900 pazienti, che ha confrontato lo standard RCHOP con una modifica della chemoterapia sostituendo la vincristina con un nuovo anticorpo monoclonale che si chiama Polatuzum Avedotin in diretto contro un altro antigene che il CD79B, quindi questo RCHPB si è dimostrato un vantaggio nel senso di ridurre il rischio di ricaduta per questi pazienti e anche in Italia da poco è stato dall'AIFA autorizzato per il trattamento dei pazienti cosiddetti ad alto rischio, quindi vuol dire quelli che hanno dei fattori di rischio sfavorevoli come una malattia estesa, un aumento della latticodietrogenasi. È un piccolo passo avanti, non è un enorme passo avanti, ma è comunque un passo avanti perché riduce un 7% il rischio di recidiva. Sembra poco il 7% ma in realtà vuol dire, lo possiamo vedere anche con una riduzione della necessità di terapie successive per questi pazienti, che è anche un vantaggio per il paziente e anche per il nostro sistema sanitario perché le terapie successive sono terapie ad altissimo costo come le CAR-T e quindi anche una riduzione di un uso delle CAR-T in questo setting che sicuramente è un piccolo passo avanti, comunque è un passo avanti. Passando invece verso le terapie di un prossimo futuro, che cosa c'è appunto dietro l'angolo? Dietro l'angolo c'è molto, innanzitutto per fortuna dei nostri pazienti, c'è molto perché abbiamo ormai dimostrato nei pazienti che sono in ricaduta, quindi hanno già avuto alle spalle terapie di questo genere che terapie più di tipo immunologico, ormai la chimioterapia ha dato quello che ha dato, soprattutto con gli anticorpi bispecifici che sono anticorpi che attaccano da un lato la cellula linfomatosa e dall'altro, riattivano il sistema T cellulare ad agire contro la cellula linfomatosa e che sono molto efficaci nella terapia di ricidiva, questi anticorpi sono stati combinati in prima linea sempre con la chimioimmunoterapia standard. Gli studi sono, i dati preliminari dimostrano una risposta nella quasi totalità dei pazienti. Ovviamente sono dati preliminari, ci sono studi randomizzati in corso di confronto con la terapia classica, R-CHOP o R-Pol-CHP e vedremo, però secondo me sono naturalmente una strada assolutamente valida che potrà dare un ulteriore passo avanti. L'altro passo avanti è dato da una miglior definizione dei sottogruppi molecolari dei nostri linfomi a grandi cellule, in cui definendoli meglio dal lato molecolare potremo probabilmente individuare esattamente delle molecole biologiche che possono agire, targettare come è tradotto un po' dall'inglese, esattamente l'alterazione molecolare specifica di questi linfomi e anche qui ci sono degli studi di fase 2 in corso con diversi agenti, con gli inibitori più moderni della brutonterosine kinase o inibitori di BCL2 che possono dare di nuovo una risposta nei pazienti già ricaduti, ma sicuramente possono essere testati in pazienti in prima linea di terapia.